Benvenuti a questa presentazione dell'ultimo report, l'ultimo dossier del nostro Centro Studi di Machiavelli, ormai una consuetudine quella di presentarli qui presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Oggi presentiamo questo dossier numero 21 dedicato ai presidenziali negli Stati Uniti che si tirano il prossimo anno. È un dossier che in particolare si focalizza su quelle che sono le strategie e le chance del Presidente attuale, Donald Trump, di riuscire a ottenere la riconferma. Ma dallo stesso autore, che qui a mio fianco, Stefano Graziosi, analista della verità, abbiamo anche pubblicato alcuni mesi fa un altro report che invece guardava la prospettiva democratica, quindi quali sono i principali candidati in campo, anche in questo caso quali le posizioni, quali le possibilità, le chance di ottenere la nomination, quindi sicuramente parleremo non solo di Trump, non solo del campo repubblicano, ma anche di quello democratico. Il tema poi è di stretta attualità, l'avete seguito tutti anche nei telegiornali, la questione dell'impeachment, sicuramente i nostri ospiti toccheranno anche questo aspetto. Oltre all'autore Stefano Graziosi abbiamo qui con noi l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri, do subito a lui la parola, l'onorevole Formentini, per degli impegni politici presso il suo collegio, che qui a rappresentare il Parlamento dovrà lasciarci con un certo anticipo, quindi procediamo subito a dargli la parola, a sentire quella che sarà la sua opinione sull'elezione degli Stati Uniti, Trump, i rapporti e le conseguenze per l'Italia. Grazie mille Daniele. Grazie all'autore. Io ho letto con attenzione questo dossier, questo studio che ha fatto sulle possibilità che ha Trump di essere riconfermato nel 2020. Manca poco ormai. I democratici, e lo scrive benissimo, sono in forte difficoltà. C'è un certo caos interno al Partito Democratico, ancora non si è addivenuti alla scelta di un candidato, ovvero ci si arriverà, però secondo noi c'è un netto ritardo, in più tutto ciò è complicato da una chiara deriva sinistra di una parte del Partito Democratico, come è noto a tutti. Una deriva sinistra che potrebbe essere uno dei motivi che potrebbe dare, in caso di scelta di un candidato di sinistra, una netta possibilità di rielezione a Trump. Ma non è solo, sono analizzati in questo studio gli altri motivi. Motivi veri, forti, sono assolutamente l'economia, la disoccupazione che ha i minimi. Sono grandi risultati, grandi risultati che però, ma non voglio anticipare tutto, se no rubo i temi all'autore, che però potrebbero essere messi in crisi dalla politica che fa Trump per quanto riguarda le tariffe, pensiamo alla guerra commerciale con la Cina. Non è un giocarsi un tutto per tutto, è una difesa consapevole dell'economia americana, una difesa che viene apprezzata da quella working class, dalla Rust Belt, che ricordiamolo ha sì votato Trump in maggioranza questa volta, ma precedentemente va sempre votato democratico. Trump dovrà riuscire a tenere questi voti, ma i segnali sono ottimi, ed in più rivolgersi anche alle minoranze etniche. Qua, nello studio che invito tutti a leggere, a approfondire, c'è scritto che sugli ispanici ci sono buone possibilità. E ne sono assolutamente convinto anch'io, perché la politica di parte del Partito Democratico a favore, o comunque con una certa condiscendenza, per usare le parole del report, con Caracas e con Cuba spaventa l'elettorato americano. Ecco, quindi Trump, anche se qui viene depinto come estremista, potrebbe invece riuscire a conquistare i voti del centro americano, quel centro che non trova rappresentanza nel Partito Democratico di oggi, che pende sempre più a sinistra. Sulla politica estera la conosciamo tutti, massima pressione sull'Iran, confronto con la Cina, un tentativo di far sì che la Russia non finisca in orbita cinese, ma rimanga in un qualche modo in rapporto con l'Occidente. È una linea che, a nostro modo di vedere, a modo di vedere della Lega, va proprio nella direzione di quello che è anche l'interesse nazionale italiano. Perché oggi noi vediamo la situazione della politica estera, che c'è stata purtroppo parzialmente anche nel governo di cui abbiamo fatto parte con questa adesione alla Belt and Road Initiative. E continua oggi in modo più marcato con il 5G, al quale non si è rinunciato il 5G cinese. Ecco, questa politica la vediamo anche noi come pericolosa per il nostro Paese, senza usare mezzi termini, con parole molto chiare. Proprio oggi il Presidente Volpi ha reso noto, lo trovate online, il rapporto, le conclusioni del rapporto sui rischi del 5G per il nostro Paese, invitando a non utilizzare un 5G cinese. Ecco, quindi c'è anche questa pronuncia forte, una novità della giornata di oggi, che si aggiunge ai tanti richiami che ha fatto il Segretario di Stato Pompeo, purtroppo caduti nel vuoto. Sull'Iran abbiamo fatto anche noi delle battaglie come Lega, sottolineando più volte, ad esempio, come i voli prima Mahaner e oggi Iraner, che ci sono verso il nostro Paese, presentino dei rischi. Appello che sempre aveva fatto il Presidente Pompeo, anche questo, quantomeno parzialmente caduto nel vuoto. E quindi davvero la necessità per noi di una stretta alleanza con gli Stati Uniti, anche nel quadro della Brexit. Una Brexit che riporrà ancora di più, e questo nostro giudizio al centro, l'Alleanza Atlantica. L'Alleanza Atlantica che diverrà il forum per eccellenza dei rapporti tra Inghilterra, Stati Uniti e Italia, per quanto ci riguarda. E quindi tornerà assolutamente attuale. È nostro interesse nazionale anche, appunto, questa politica di Trump, perché una certa avversione, come si nota, a quell'asse franco-tedesco, di Trump è assolutamente in linea con quello che dobbiamo fare, ottenere noi in Italia, ovvero di non essere più colonia, di non essere più ruota di scorta, di non essere più un cliente di quest'asse franco-tedesco, ma di ottenere più dignità. Anche qui non possiamo non dirci a favore anche di qualcosa che è stato percepito, secondo me, in modo sbagliato, come antinato, ovvero dei richiami al budget sharing di Trump. Perché con questi richiami, come spesso con la sua capacità enorme di negoziazione, e non lo dico in modo ironico, ne sono convinto, è un ottimo negoziatore, con mezzi non convenzionali, però ottiene risultati per il proprio Paese. E le ha ottenuti anche in questo caso, dicevo, perché i Paesi europei, richiamati dal Presidente Trump, hanno aumentato, purtroppo non ancora l'Italia, o non abbastanza l'Italia, la spesa per la difesa. Ecco, quindi un'America che fa appello agli alleati perché si impegnino di più e perché non chiedono tutto come dovuto alla sola America. Interesse, ovviamente, nazionale degli Stati Uniti, ma interesse anche dell'Europa, dell'Italia, perché dobbiamo crescere, dobbiamo tornare ad essere responsabili, cosa che purtroppo non siamo più. Altri punti di contatto possono essere la volontà del Presidente Trump di evitare nuove destabilizzazioni nel Mediterraneo e anche quella di contenere il potere degli organismi sovranazionali. Sono tutti motivi di forte vicinanza al nostro Paese alla politica attuata da Trump. Però interesse nazionale, lo ripeto, fino alla nausea, perché non se ne parla mai, ma questo deve essere il concetto che guida la nostra azione. Dobbiamo sostenere queste politiche perché oggi, e torno alla Nato, io sono anche membro della Delegazione Italiana all'Assemblea Parlamentare della Nato e per questo mi sono proprio cari questi temi, ad esempio la Nato che guarda oggi a sud e non più solo ad est, con l'Hub di Napoli. Ecco, quindi una Nato viva che ci aiuti a contenere quale minacce che provengano da sud, come il terrorismo, come la migrazione illegale e tutti i traffici che purtroppo oggi interessano il Mediterraneo. L'autore non si è sbilanciato nel report sulle possibilità di rielezione di Trump. Io sono molto ottimista, non solo perché i sondaggi oggi lo dicono, ma c'è una netta ripresa di Trump e c'è un suo vantaggio negli stati in bilico. Ma anche perché, come si è visto, l'impeachment, e cosa incredibile lo scrivono sia il Corriere che la Repubblica oggi, si sta rivelando già da adesso un boomerang per chi lo ha concepito. Grazie. Grazie molto, onorevole. Quindi passiamo la parola all'autore del report, Stefano Graziosi. Buonasera, grazie a tutti per essere intervenuti. Ringrazio innanzitutto il Centro Machiavelli per questa opportunità e l'onorevole Formentini. Questo report nasce fondamentalmente da un punto, una domanda che a sua volta nasce da un modo, a mio modesto modo di vedere, sbagliato, ecco, di narrare la figura del Presidente Trump da parte di molti mass media europei e statunitensi. Cioè, l'idea di dire sempre che questo Presidente sia un estremista. Un aspetto che, secondo me, non è vero e, insomma, cerco di sostenere questa mia tesi nel report dati alla mano. È molto semplice il discorso che faccio. Se Donald Trump, già come candidato nel 2016, fosse stato realmente un estremista, con ogni probabilità, alla Casa Bianca non ci sarebbe mai arrivato. Perché il sistema elettorale statunitense è concepito in modo tale che per conquistare White House tu alla fine devi riuscire a convincere innanzitutto i cosiddetti elettori indipendenti, cioè coloro che non sono nei fatti iscritti ad alcun partito. noi potremmo definirli un po' gli indecisi e poi arriva anche tendenzialmente chi è in grado, paradossalmente, di conquistare parti dell'elettorato di quello che è la compagine avversaria. Cioè, insomma, diversi esempi. Ronald Reagan, per esempio, nel 1980 vinse in alcune aree storicamente democratiche dando origine al curioso fenomeno dei cosiddetti Reagan Democrats, così come oggi ci sono i Trump Democrats. Donald Trump, nei fatti, se andiamo a vedere il 2016, appunto, è riuscito a conquistare innanzitutto i cosiddetti swing states, cioè gli stati in bilico, quelli appunto in cui gli indipendenti alla fine risultano dirimenti. Pensate all'Ohio, pensate alla Florida, ma poi è riuscito a vincere anche, per quanto magari di misura, in alcuni stati storicamente legati al Partito Democratico. Penso soprattutto al Michigan, al Wisconsin, alla Pennsylvania, quella che è la cosiddetta Rust Belt, in cui, insomma, è molto forte il voto dei colletti blu, la classe operaia impoverita, martoriata dalla crisi economica, tendenzialmente poi legata a quella che è l'industria tradizionale americana, soprattutto automobilistica. Quella classe operaia, che se noi andiamo a vedere il suo comportamento elettorale negli anni 90 e nei primi dieci anni del 2000, grosso modo, ha sempre in maggioranza votato centrosinistra. Il Michigan, per esempio, era ormai uno storico feudo legato al Partito Democratico, in particolare proprio a Hillary Clinton, dove lei, insomma, aveva vinto a più riprese già nelle primarie precedenti, al 2016, insomma, è stato sempre un territorio molto legato alla famiglia Clinton. E quindi Trump, la sua forza dal punto di vista elettorale, è stata proprio questa, essere riuscito a conquistare il voto degli indipendenti in primo luogo e a sottrarre ampie porzioni di elettorato democratico alla sinistra, al cosiddetto appunto Partito dell'Asimello. Paradossalmente lui ha avuto più difficoltà nel corso delle primarie negli stati tradizionalmente repubblicani, perché all'inizio i repubblicani, quelli, diciamo, classici, tradizionali, gli evangelici, la destra, l'evangelica, eccetera, non si fidavano di lui. Noi dobbiamo tornare con la memoria al 2015, inizio 2016, gli evangelici avevano altri punti di riferimento, avevano, qualcuno magari lo ricorda, il senatore del Texas, Ted Cruz, l'ex neurochirurgo Ben Carson, Trump era pluridivorziato, era stato filoabortista, figuriamoci, miliardario new yorkese, poi non era esattamente, come dire, il candidato ideale per questo tipo di elettorato. Un elettorato che però lui, pian piano, a partire dal marzo del 2016, è riuscito progressivamente a conquistarsi grazie ad una serie di strategie elettoralmente e politicamente efficaci. Per esempio, ha appoggiato in maniera abbastanza adamantina la battaglia anti-abortista e soprattutto ha promesso, come poi infatti ha mantenuto questa promessa, cioè quella di nominare sia alla Corte Suprema che alle corti federali inferiori un elevato numero di giudici tendenzialmente conservatori. Quindi, Trump alla fin fine è riuscito a vincere grazie ad una coalizione elettorale molto eterogenea che metteva insieme pezzi del Partito Democratico, pezzi di elettorato trasversale. Trump, per esempio, ha vinto il voto cattolico, di poco malavinto, e il voto cattolico in America è un voto molto ondivago, un voto molto centrista tradizionalmente, e poi sicuramente c'è questo pezzo anche molto forte di repubblicani ortodossi evangelici soprattutto ma che, ripeto, inizialmente non si fidavano di lui perché il messaggio elettorale di Trump è sempre stato un, diciamo così, di carattere antisistema ma altresì molto, molto, molto trasversale. Trump era colui che nelle primarie del 2016 attaccò George W. Bush, non era quasi mai successo che un repubblicano o comunque un candidato repubblicano attaccasse un presidente repubblicano tra l'altro della storia recente. C'era stato qualche episodio le fazioni dei cosiddetti libertarian la famiglia Paul ma insomma erano esempi abbastanza circoscritti. Trump è invece diventato come dire lui era aveva già il vento in poppa nei sondaggi da agosto un candidato repubblicano di successo che osava sfidare apertamente l'establishment del suo stesso partito. perché ricordate e questo secondo me è valido ancora oggi i grandi nemici di Trump non sono i democratici che come accennava prima l'onorevole insomma probabilmente in queste stesse ore si stanno dando la zappa sui piedi poi se volete possiamo affrontare l'argomento ma sono i repubblicani a lui ostili che adesso sono molto deboli ma ci sono qualcuno in qualche posizione chiave e può teoricamente mettergli bastoni tra le ruote soprattutto al Senato quando si voterà per l'impeachment al Senato lì sarà interessante vedere perché con ogni probabilità un paio di senatori repubblicani gli voteranno contro però questo voglio dire il problema di Trump sono sempre più state le serpi in seno che non il partito democratico che in questo momento cito sempre l'onorevole poco fa è abbastanza allo sbando per cui questo per dirvi che un candidato che in America riesce a mettere insieme una coalizione elettorale così eterogenea non può definirsi oltransista settario settoriale i candidati di questa risma e l'America ne ha conosciuti tanti sia a destra che a sinistra a destra Ted Cruz nel 2016 Mike H.B nel 2008 Rick Santorum nel 2012 a sinistra mi viene in mente il reverendo Jesse Jackson nell'84 o McGovern nel 72 contro Nixon queste figure qui non arrivano da nessuna parte perché non sono in grado di mettere insieme appunto coalizioni elettorali effettivamente trasversali e quindi Trump per vincere per rivincere nel 2020 ha assoluta necessità innanzitutto di mantenere intatta questa coalizione elettorale quindi diciamo di rivincere in tutti gli stati che aveva conquistato nel 2016 possibilmente sottrarne qualcuno agli avversari ci sono delle possibilità per esempio forse in Nevada e in qualche altra in qualche altra area più o meno strategica ad oggi diciamo che è sicuramente difficile formulare una previsione certa non fosse altro che non sappiamo neanche chi è e chi sarà il suo effettivo sfidante nel 2020 quasi banale dirlo ma è così finché non ci sarà il duello è appunto molto difficile fare delle previsioni però certo è che se si votasse domani mattina insomma avrei molte difficoltà a ritenere che Donald Trump non possa non essere in qualche modo rieletto come cerco appunto di spiegare nel report questo presidente la rielezione se la gioca su un punto che è l'economia e poi ovviamente i dossier economici su cui lui può riscontrare dei problemi teoricamente almeno sono diversi non è una strada totalmente in discesa l'onorevole citava citava prima la guerra dei dazi ovviamente aggiungerei anche il rapporto con la Federal Reserve che non è totalmente idilliaco in particolare io credo nel rapporto nel dossier ne parlo che lui abbia un timore grande Trump intendo che è un precedente storico quello del 1992 quando Bush padre contrariamente a tutte le aspettative venne sconfitto da Clinton e Bush padre ha sempre attribuito le ragioni di quella sua sconfitta alla Federal Reserve ad Alan Grispan che all'epoca era l'inossidabile governatore della banca centrale che portava avanti lui diceva una politica monetaria troppo poco espansiva ora secondo me derubricare la sconfitta di Bush padre solo a questo è riduttivo però indubbiamente la Fed ci mise anche del suo e questo ci aiuta secondo me anche a capire i litigi battibecchi frequenti che Trump ha avuto con Jerome Powell l'attuale governatore della Fed quest'estate piccola parentesi tutti quanti a scandalizzarsi Trump minaccia Jerome Powell per carità non è molto ortodosso ma vorrei ricordare che le cronache narrano che Lyndon Johnson una volta invitò nel suo ranch in Texas quando era ancora presidente l'allora governatore della Fed i due litigarono lo prese per il clavattino e lo buttò al muro questo si racconta ma è qualcosa di più una leggenda voglio dire che c'è sempre stato al di là della battuta che tanto battuta non è un rapporto di pressione come dire della Casa Bianca nei confronti della Federal Reserve e lo stesso Bush Padre nel 91-92 cercò di esercitarlo sulla Fed di allora per il resto al di là dei dossier economici io sinceramente grossi punti problematici per la rilezione ad oggi non ne vedo men che meno l'impeachment perché come vi dicevo magari dopo se volete possiamo approfondire più nel dettaglio la questione l'impeachment rischia se non è già nei fatti di essere un sostanziale totale assoluto indubitabile boomerang per i democratici che l'hanno votato appena stanotte anche mi avvio a conclusione sulla politica migratoria nonostante ci sia una martellante battaglia mediatica ostile nei suoi confronti io credo che Trump abbia sostanzialmente l'appoggio continua ad avere l'appoggio dell'elettorato che lo votò nel 2016 su questo punto chiudo sull'immigrazione perché a mio modesto avviso al di là di poi come la si possa pensare nel dettaglio e nel merito credo che sia uno degli aspetti più fraintesi di questa presidenza la linea dura che Donald Trump ha assunto nei confronti dell'immigrazione clandestina secondo me ha un duplice aspetto e ne scrivo qui un aspetto securitario che è anche un aspetto se vogliamo banale perché non è tipicamente trampiano l'aspetto securitario nella lotta all'immigrazione clandestina lo troviamo in Bill Clinton lo troviamo in George W. Bush e lo troviamo fin anche in Barack Obama ricordiamoci che Obama nei primi quattro anni cioè nel primo mandato ha effettuato un numero di rimpatri superiore a quello che fino ad oggi Trump in questi tre anni ha condotto Obama seguendo l'esempio di Bush mandò anche lui la guardia nazionale a difesa dei confini meridionali quindi l'aspetto securitario law and order nixoniano come vogliamo definirlo c'è ma non è questo l'aspetto secondo me rilevante nell'approccio trumpista all'immigrazione l'approccio più rilevante a mio modesto avviso è di carattere socio-economico e guarda a sinistra non guarda a destra come si dice cioè l'ostilità nei confronti dell'immigrazione clandestina è vissuta in primo luogo proprio da quelle classi sociali ex-democratiche di cui parlavamo prima chi oggi in America ha paura dell'immigrazione clandestina sono proprio gli in primo luogo almeno i colletti blu impoveriti di stati industriali martoriati dalla crisi come il Michigan l'Ohio il Wisconsin la Pennsylvania e chi più ne ha più ne metta e questo è il grande punto perché l'immigrazione clandestina viene inevitabilmente vista come foriera di ribasso salariale allora capite che da questo punto di vista lo slogan elettorale del 2016 che tornerà probabilmente nel 2020 il muro al confine con il Messico l'immagine acquisisce tutta un altro senso che non è quello del razzismo becero e nazionalista fino a se stesso gretto è innanzitutto difesa delle classi sociali impoverite e più deboli chiudo con una battuta nel 1944 un economista Carl Polany uscì con un libro La grande trasformazione in cui sosteneva il principio il meccanismo sociale dell'autodifesa della società cioè Polany riferendosi alla fase di globalizzazione in un certo senso dell'Ottocento soprattutto legata all'Inghilterra ma poi ovviamente non solo diceva a un certo punto visto che il mercato che si autoregola a livello internazionale senza un freno ha un impatto sociale devastante sulle classi più deboli la società si autodifende ebbene Donald Trump nasce come figura politica e si impone come presidente degli Stati Uniti proprio sulla scia di questo meccanismo grazie grazie Stefano ridò la parola all'onorevole Puermentini prima che poi devo proprio scappare purtroppo no mi riallaccio alle conclusioni perché quanto affermato l'autore Graziosi sull'America ovviamente a nostro modo di vedere vale anche per l'Italia vale per l'Italia vale per quelle aree come l'Emilia Romagna che andrà al voto tra poco dove proprio la classe operaia non si è più sentita non si sente più rappresentata da quelli che erano i rappresentanti tradizionali della sinistra anzi si sente totalmente abbandonata di fronte a un'immigrazione incontrollata che come ha detto benissimo poi la danneggia a livello salariale quindi noi vediamo delle similitudini delle somiglianze tra quello che succede in America quindi la lotta a questa immigrazione illegale che in America ovviamente proviene da sud dalla parte sud del continente da noi arriva dal Mediterraneo però non sono solo queste le analogie come si vede c'è questo tentativo maldestro di impeachment di Trump in Italia ci sono queste insistenti indagini attacchi processi nei confronti del ministro Salvini potremmo fare un ulteriore esempio che è Israele con Netanyahu perché faccio proprio questi tre esempi perché noi come Lega siamo convintissimi che vada ribadita l'appartenenza del nostro paese con forza all'alleanza atlantica vada fatto un asse a livello politico con Israele e si debba cercare di combattere questo mondialismo imperante che tutto sradica e che esalta in documenti come il Global Compact per le migrazioni che la Lega ha combattuto e che proprio da Machiavelli ha raccolto questa sfida la Lega intera perché da qui da quest'aula era partita la denuncia del Global Compact ecco a cosa ci opponiamo lo diciamo ancora una volta con forza e questo ci unisce a Trump ci opponiamo al fatto che vengano esaltate le migrazioni come fenomeno sempre e comunque positivo come fa il Global Compact noi siamo invece convinti che la migrazione non sia necessariamente un fenomeno di per sé positivo ma anzi possa in determinati momenti storici non esserlo e soprattutto lo sradicare dei popoli dalla propria terra non sia affatto cosa buona non abbiamo paura di dirlo lo ripetiamo sempre con forza e con questo in questo troviamo un alleato fondamentale in Trump anche Trump non ha sottoscritto il Global Compact proprio ieri purtroppo c'era in visita il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres che abbiamo ascoltato nell'aula del Senato e introducendo il presidente Fico ha invece esaltato il Global Compact sono due visioni del mondo noi ci rifacciamo a quella di due papi che dicevano i due papi precedenti che dicevano che prima del diritto a emigrare va ribadito e aggiungiamo noi con estrema forza e chiarezza il diritto a non emigrare grazie grazie nuovamente quindi all'onorevole Formentini anche per essere stato qui con noi malgrado i molteplici impegni torniamo al nostro autore di oggi intanto invito i presenti a pensare se vogliono porre delle domande ne avrei intanto io una che riguarda l'altro campo abbiamo parlato moltissimo di Trump visto che questo dossier è specifico su quello però una questione non meno interessante riguarda invece i democratici anche perché il pubblico italiano spesso però aveva ragioni dai media più informato rispetto al presidente un po' meno di quello che sta succedendo in queste primarie che ricalcano per certi versi quelle di quattro anni fa nel senso che abbiamo ancora una volta lo scontrarsi dell'ala centrista e di quella un po' più radicale quella centrista rappresentata non più da Clinton ma da Biden che comunque è molto simile per certi versi come lei è attaccabile sul piano dell'onestà della moralità la questione dell'impeachment alla fine è venuta fuori comunque da uno scandalo che in realtà riguardava Biden cioè quello dei figli assunto da una compagnia energetica ucraina nel momento in cui Biden era responsabile ufficialmente per conto degli Stati Uniti in qualità del vicepresidente dei rapporti con l'Ucraina e del licenziamento di questo procuratore chiesto pubblicamente da Biden al governo ucraino il procuratore che stava indagando sulla medesima società per cui il figlio lavorava quindi ecco qualcosa di sicuramente molto forte e che avrà anche un'impressione sull'opinione pubblica americana proprio perché la questione dell'impeachment e di tutta questa polemica sulla famosa telefonata con il presidente ucraino ha poi fatto sì che uscisse e diventasse pubblico dibattito e Biden inoltre è anche una persona che è molto prona a delle gaffe si parla spesso con le di Trump anche lui è molto attaccato da questo punto di vista tanto per dire è capitato in più di un comizio elettorale di confondersi e sbagliare lo stato in cui si trovava quindi ringraziare i cittadini in un altro stato e dall'altro diciamo abbiamo il campo più estremista quello che come dicevi giustamente viene anche sfruttato da Trump per denunciare la deriva dei democratici in cui Sanders non è più il candidato pienamente in riferimento invece è minacciato da altri da Warren per esempio ecco però messe tutti assieme nel momento in cui prima o poi si arriverà a un candidato che sia espressione di quell'area il primato che oggi ha Biden a livello di sondaggi e intenzioni di voto per le primarie democratiche non è più così solido quali sono le tue previsioni in merito? Allora io credo che la candidatura di Biden sia stata dall'inizio prima ancora che uscisse lo scandalo ucraino una candidatura molto debole e farraginosa sulla scorta proprio quella di Hillary Clinton nel 2016 dico questo anche se può apparire controintuitivo perché Biden è uomo dell'establishment ha appunto l'establishment del Partito Democratico tutto dalla sua parte non ha grosse difficoltà a reperire grossi finanziamenti questi però erano aspetti che contavano positivamente negli anni 90 nei primi anni 2000 dopo Trump e oserei dire anche in parte dopo l'Obama del 2008 si è incrinato già un po' questo tipo di questo tipo di situazione le cose sono fondamentalmente cambiate oggi essere il candidato dell'establishment in America ti mette al centro di numerose polemiche che non sono polemiche solo legate alla sinistra ma anche alla destra Trump se voi ricordate nel 2016 Trump ha passato tutti i primi mesi di campagna elettorale scientemente con un obiettivo il suo pungible preferito era Jeb Bush perché lui aveva capito che se avesse fatto fuori Jeb Bush la strada si sarebbe fatta in discesa perché Jeb Bush era il candidato dell'establishment repubblicano quindi è un discorso che è trasversale ad entrambi i partiti ora il problema di queste primarie che segnaliamo sono le più affollate della storia americana ad oggi quelle il caso precedente era Jimmy Carter nel 1976 quando uscì fuori Jimmy Carter erano 16 candidati qui nei momenti di massimo splendore abbiamo ampiamente sforato i 20 quindi voglio dire insomma erano abbastanza e ancora sono tantissimi ho perso il conto lo confesso credo 15 adesso ma non ne sarei neanche troppo sicuro il problema qui è capire chi è con l'establishment e chi no perché ci sono alcune figure ed è un discorso che ho capito un po' tardi che in realtà sono fintamente anti-establishment mi riferisco a un caso specifico Elizabeth Warren Elizabeth Warren che è stata presentata sicuramente a sinistra ecco su questo non ci piove ma che è stata presentata come una delle paladine della lotta nei confronti del sistema partitocratico sistema poi nella fattispecie di gestione del partito democratico in realtà se voi guardate bene in filigrana è una propaggine di sinistra di quell'establishment se voi volete trovare a sinistra oggi cioè nel partito democratico un candidato realmente anti-sistema e beh il vecchio Bernie è sempre lui tra Elizabeth Warren e Bernie Sanders nonostante i due condividano tante battaglie abbiano la stessa posizione che sono in tema di sanità e quello che volete c'è una differenza abissale abissale perché Elizabeth Warren contesta la stortura vera o presunta di un sistema all'interno di cui però si riconosce si riconosce lei tempo addietro l'ha detto proprio io perché sapete che nel dibattito democratico oggi soprattutto più a sinistra c'è tutta la questione del capitalismo il sistema capitalista è ancora valido oppure no e lei ha detto no no il sistema capitalista ha tanti problemi ma io continuo a difenderlo continuo a sostenerlo Bernie Sanders dal canto suo ancora oggi si definisce orgogliosamente socialist quindi definirsi socialista in America nel 2016 fece ancora più scandalo perché voi sapete in America il socialismo diceva Werner Zombart nel 1906 non esiste poi alla fine invece dopo il 2008 dopo la crisi la crisi in qualche modo è venuto e anche in Trump ci sono elementi sotto certi aspetti socialisteggianti in un certo qual modo Trump io l'ho sempre considerato come repubblicano molto più vicino a Richard Nixon per trovare un esempio un precedente storico che non ha Reagan a livello di politiche concrete che porta avanti però fermandoci sempre al Partito Democratico ecco attenzione perché c'è un establishment centrista Joe Biden l'ineffabile Michael Bloomberg che secondo me farà più danni che altro una volta che si è candidato perché Bloomberg polarizza lo scontro cosa c'è di intelligenza a candidare un multimiliardario di tendenze destrorse in una primaria democratica in cui i miliardari di destra vengono definiti il demonio questo io ancora non l'ho capito ma vedremo ma poi c'è Pete Buttigieg eccetera ma poi c'è anche un establishment di sinistra e appunto Elizabeth Warren quindi attenzione perché quei due Bernie Sanders e Elizabeth Warren non sono due candidati sovrapponibili secondo me è una mia modestissima interpretazione e questo ci tornerà utile quando in sede di general election quindi il 3 novembre del 2020 vedremo i loro rispettivi elettorati come si comporteranno nel 2016 è vero che ci fu una parte dei Sandersiani che si astenne pur di non votare Hillary Clinton ma ci fu un'altra parte dei Sandersiani magari non tantissimi ma una parte abbondante ci fu che come diceva Montanelli si turò il naso e votò Trump quindi attenzione perché sono due entità come dire due figure molto diverse e non escluso che soprattutto l'elettorato Sandersiano più duro in un certo senso quello più antisistema ad un certo punto visto che Sanders è un po' difficile oggettivamente che arriva la nomination quando dovrà scegliere tra Trump e il candidato democratico che potrà essere non lo so adesso una Elisa Biden non credo ma un Bloomberg una Warren alla fine attenzione che questo non voti Trump fermo restando e chiudo che c'è il tema impeachment che riguarda proprio i senatori adesso perché se l'impeachment come sembra si allunga oggi o ieri stanotte Nancy Pelosi ha detto che lei vuole allungare ha detto adesso gli articoli dell'impeachment che abbiamo votato ieri non li trasferisco subito al senato così allunghiamo i tempi ma se i democratici o i repubblicani allungano i tempi del processo al senato ci sono Elizabeth Warren Bernie Sanders Amy Klobuchar Cory Booker e Michael Bennett tutti e cinque senatori attualmente candidati alla nomination del partito democratico se l'impeachment sfora il 3 di febbraio cioè il caucus dell'Iowa a quando le primarie democratiche iniziano questi cinque devono stare chiusi in senato a fare il processo e questo potrebbe rivelarsi per loro un danno enorme perché li costringerebbe a sospendere temporaneamente ma forse fatalmente la loro campagna elettorale non so se ci sono domande o interventi dal pubblico prego a distanza di tre anni lei diceva per la rielezione il punto focale è l'economia vogliamo tracciare un bilancio di questi tre anni del presidente Trump e quanto questo ha fatto presa soprattutto su quelle classi che lo hanno votato allora dunque comincerei dal 2017 fine 2017 era dicembre se non ricordo male l'approvazione della riforma fiscale da parte dei repubblicani quella fu una data spartiacque secondo me perché se voi ricordate quasi per tutto il 2017 Trump non aveva toccato granché palla perché si era trovato il congresso contro non era riuscito insomma dal punto di vista legislativo aveva tentato la riforma sanitaria gliel'avevano bocciata i suoi c'era McCain quindi quella è una data spartiacque perché il primo grande risultato è la prima grande promessa elettorale che lui ha portato a termine e da lì in un certo senso parte secondo diversi esperti almeno quanto meno una parte importante del boom economico che più che nel 2018 proprio nel 2019 l'America ha conosciuto e sta nei fatti continuando a conoscere se andiamo a vedere i dati di novembre quindi appena usciti sull'occupazione e sul PIL e anche sull'aumento dei salari sono dati tutti PIL e disoccupazione ampiamente positivi salari crescita contenuta ma comunque la crescita c'è stata quindi il tema visto un 2019 oggettivamente tanto florido è il paradosso Trump sarà in grado di tenere questo ritmo economico anche nel 2020 fermo restando che gli anni bisestili in America proprio perché sono anni elettorali tendenzialmente l'incertezza porta in qualche modo a scosse sul sul torre dell'economia non dico per forza crisi economiche però questo è un punto fondamentale inoltre bisogna tenere presente che pochi giorni fa i democratici hanno finalmente dato l'ok alla Camera dove giaceva da mesi al testo dello USMCA il nuovo NAFTA l'accordo rinegoziato e questo è un dato di fatto e un altro risultato importante per questa presidenza perché Trump nel 2016 aveva fatto della rinegoziazione del NAFTA uno dei suoi numerosi cavalli di battaglia tra l'altro il caso dello USMCA è istruttivo perché tutto sommato evidenzia che se ci fosse una collaborazione un po' più bipartisan in America le cose magari potrebbero funzionare meglio anziché appunto fare processi di impeachment un pochino come dire vagamente inconsistenti mettiamola in questi termini quindi l'incognita di Trump secondo me è duplice al di là dei singoli dossier che citavo prima guerra dei razzi eccetera fed e quant'altro è vedere il 2020 qualcuno teme recessioni imminenti io questo non lo so perché non sono un economista e non ho ovviamente la palla di vetro però ecco quello che secondo me la casa bianca quello di cui ha più paura non è tanto una catastrofe economica in stile 2008 è quella che è stata chiamata dal New York Times la recessione silenziosa che si verificò a cavallo tra il 2015 e il 2016 che colpì essenzialmente solo alcuni settori nella fattispecie energia e agricoltura ma fu abbastanza dura per mettere in crisi democratici che all'epoca erano al governo con Barack Obama quindi Trump teme più il rallentamento forte che non la catastrofe epocale di una nuova grande recessione se lui supera questo scoglio ve lo ripeto non c'è secondo me impeachment che tenga anche perché insomma si vedono i sondaggi è uscito un sondaggio Gallup l'altro ieri o ieri no ieri ieri mercoledì mattina è uscito ieri in cui dicevano insomma sostanzialmente che il sostegno a livello nazionale per l'impeachment è da settembre ad oggi è sceso del 6% e a livello nazionale sono più quelli contrari che quelli favorevoli quindi tema più o meno è questo qui aggiungerei anche a quanto dicevi che una statistica interessante con la presidenza Trump si è raggiunto il massimo storico di occupazione tra gli afroamericani dato anche importante perché ovviamente il partito democratico gioca molto su una contrapposizione identitaria o come dicono gli razziale che poggia poi essenzialmente su valutazioni tipo ideologico culturale per l'elettore medio quello che magari ha poca interesse per l'ideologia quindi l'elettore medio afroamericano invece il fattore economico cioè il fatto di stare meglio di come stesse precedentemente può pesare non va dimenticato che Trump secondo le ricerche demoscopiche nel 2016 ottenne più consensi di Mitt Romney è vero che Romney ha contro un candidato nero quindi partiva ha sfavorito è vero che se andasse contro Biden Biden era il vicepresidente Obama quindi potrebbe giocare anche lì al suo sfavore però un miglioramento della performance anche tra gli afroamericani ovviamente non ci sarà mai un riequilibrio perché gli afroamericani sono nettamente propensi più propensi a votare per i democratici però potrebbe anche essere lì un fattore importante in certi in certi stati dove c'è un equilibrio demografico che mette a rischio i repubblicani o se lo Stato democratico mette a rischio i democratici ci sono altre domande o interventi altrimenti penso che possiamo salutarci ringraziando nuovamente il nostro autore anche per le interessantissime considerazioni che ha fatto quest'oggi Stefano Graziosi permettetemi di ringraziare anche l'onorevole Guilamo Picchi grazie al quale abbiamo oggi questa sala l'onorevole Formentini anche se non è più qui per la sua partecipazione anche l'onorevole Billi che ci ha fatto la sua partecipazione gradita qui nel pubblico e anche noi cominciamo come Centro Studi di Machiavelli ora la pausa natalizia per quanto riguarda i convegni ma già a gennaio ci saranno nuovi eventi quindi spero che vi siate tutti iscritti alla nostra newsletter se non siete fatelo perché così vi arriveranno gli inviti alle prossime iniziative grazie a tutti buona serata e auguri di buon Natale grazie a tutti grazie a tutti